La sanità naviga nel caos più totale e per ridare dignità alle scelte future chiediamo le dimissioni di Seri e Ceriscioli. È quanto si legge in un comunicato dei consiglieri a 5 Stelle di Fano che non accettano più di essere governati in questo modo. Le motivazioni, spiegano, sono diverse. Per il primo cittadino perché non era nemmeno a conoscenza delle decisioni prese dalla regione e non ha ancora emesso l'ordinanza promessa per riportare la chirurgia H24. Le dimissioni di Ceriscioli invece le chiedono perché il presidente afferma che con la delibera del 22 febbraio non si è deciso nulla sul sito e sulla modalità di finanziamento dell'ospedale unico e invece secondo i pentastellati il testo afferma in modo chiaro che la giunta regionale ha individuato il sito per realizzare il nuovo complesso ospedaliero e cioè Fossosegiori a lato pesaro. A dare il suo parere sull'argomento è anche il vicepresidente del consiglio regionale Renato Claudio Minardi. La delibera secondo me non fa nessuna confusione, è di una chiarezza unica probabilmente c'è qualcuno che è interessato soltanto a fare polemiche oppure non sa leggere le delibere. Non c'è nessuna individuazione del sito, anzi ci sono dei passi avanti. La regione nella delibera dice che l'opera sarà iscritta nel piano delle opere pubbliche della regione e siccome il presidente e come l'assessore al bilancio hanno già dichiarato e ho fatto delle verifiche dirette anch'io che ci sono le risorse c'è una volontà chiara e precisa con gli atti di andare avanti. Quindi chi fa la demagogia, chi fa la confusione, chi prova a fare del caos lo fa soltanto per visibilità politica ma è tutto strumentale. Qualcuno si aspettava che lei desse notizie insomma di questa delibera, che cosa risponde? Ma cosa devo rispondere? La delibera è una delibera così innocua e così scontata che non c'era bisogno di comunicare credo nulla a nessuno perché era un atto formale, semplicemente una formalità. Il sindaco di Fano mi ha chiamato quando ha saputo, gli ho chiarito immediatamente le cose quindi il sindaco era assolutamente informato di quello che nella delibera era scritto. Il consigliere regionale di area popolare Mirko Carluni ritiene invece che Ceriscioli non abbia una strategia chiara sul futuro della sanità. Tant'è, si legge in una nota, che ancora nessuno capisce che cosa abbia in mente il presidente al punto che persino il sindaco di Pesaro Matteo Ricci sottolinea il suo stupore davanti alla delibera approvata. Non la conoscevo e sono in attesa di incontrare il presidente Ceriscioli per capire come vuole proseguire. Del resto sono mesi che dico che bisogna fare in fretta perché la condizione della nostra sanità è molto complicata sia all'ospedale di Pesaro che all'ospedale di Fano, complessivamente l'azienda Marche Nord, non corrispondono alle esigenze che il territorio ha, tant'è che la mobilità passiva negli ultimi cinque anni è aumentata in maniera spropositata. Ritengo fondamentale arrivare presto a un nuovo ospedale unico e pubblico così come ritengo fondamentale che si crei un ragionamento nuovo con il privato convenzionato perché la mobilità passiva del nostro territorio va verso l'Emilia Romagna e verso la Lombardia sia verso ospedali pubblici sia verso ospedali privati convenzionati, cioè pagati con i soldi pubblici dei marchigiani. Abbiamo provato per diversi mesi ad accordarci con l'amico sindaco Massimo Seri, non ce l'abbiamo fatto purtroppo, adesso la palla ce l'ha la regione e cercheremo di capire da Ceriscioli come vuole muoverci sperando che si riesca a muovere dei passi il più velocemente possibile.